Ciao ragazzi, non realizzo video da molto tempo a causa della natura del lavoro. So che molti di voi non vedono l'ora di vedere i miei video ogni giorno, mi dispiace davvero per questo errore e produrrò video più spesso. Per non perdere tempo, iniziamo insieme. Lunedì 7 dicembre 2020 Tutti a casa, in controtendenza voi, re e regine dello Zodiaco, all'inclito volgo proprio non amate mescolarvi, perciò ora che tutti, liberi, si fa per dire, di circolare, visionare, acquistare, sono in giro, ve ne state tranquilli a casa a gustarvi l'ambiente raffinato e la pace di queste insolite domeniche dicembrine. Piacerà alla luna possente nel vostro segno, e sempre un paio di metri al di sopra rispetto agli altri. Bricolare, cucinare, stirare, da fare ne avrete tutto il giorno, se poi vi piace il fai da te, non avrete che l'imbarazzo della scelta, la fantasia guiderà la vostra mano, quanto ai materiali, avrete provveduto per tempo con le commerce. Dolci fantasie cavalcano la musica d'ambiente, che riempie il silenzio anche se non avete voglia di parlare, in coppia oggi non c'è molto da dire, paghi di stare insieme, e di sentirvi bene, in perfetta sintonia. Per lei? Divine in cucina, le mezze misure non fanno per voi. Se non avete tempo portate in tavola piatti già pronti, ma quando la condizione ottimale c'è, vi esibite in qualcosa di assolutamente inedito e grandioso. Per lui? Anche se di pratico, e di urgente non avete nulla da fare, detestate starvene con le mani in mano. Qualcosa di bello da inventare c'è sempre, in linea con la vostra fervida, e con la non disprezzabile manualità. Astro tarocco del giorno per leone asso coppe rovesciato nel rapporto di coppia, è in atto una trasformazione, un cambiamento due punti. Non è detto che questo debba essere necessariamente positivo e potrebbe necessitare della vostra attenzione, e del vostro buonsenso per operare le scelte giuste e corrette. Alcune copie potrebbero separarsi di comune accordo distacendo progetti e allontanandosi reciprocamente. I single si potrebbero sentire bloccati e arenarsi in situazioni anche banali e relativamente semplici. Luna appassionata e generosa nel vostro segno, peccato che Venere in quadratura non la capisca e non l'apprezzi. Ecco perché anche in famiglia pur sapendovi amati, non riuscite a impattare con i vostri cari al 100%, con la sottile sensazione di vivere su pianeti diversi. Pazienza, la diversità può essere anche motivo di confronto e di autoconsapevolezza, il primo passo è accettarsi senza credere di essere migliore o più avanti degli altri. Amore ed eros. Se un amore segreto bolle in pentola non è questa la giornata per dichiararlo, caso mai lo farete fare al dono, che state preparando o scegliendo per la persona speciale che vi ha rubato il cuore. Tenere in caldo i sentimenti ancora per un po' non farà male a nessuno, avrete tempo di riflettere, e di capire, se state camminando davvero nella giusta direzione. Siete particolarmente freschi e vivaci nell'espressione sentimentale. Chi di voi è in cerca dell'anima gemella ha buone opportunità di avvicinarsi a questa meta, specie se festeggia il suo compleanno in luglio. Marte in ariete e Mercurio in sagittario, rinfocolano il vostro ardore passionale specie se siete nati nella prima, e nella seconda decade. Nella dinamica delle copie speciali passiamo in rassegna il rapporto tra il fuoco e l'acqua, tra leone e scorpione. Segni apparentemente dissimili, possono trovare un'intensa corrispondenza nell'emotività, e nella passionalità comune. Il fattore cementante dell'unione si rivela insomma essere la forte attrazione erotica che si scatena tra i due segni. L'unione funziona soprattutto se il leone è lui, e la scorpione è il lavoro e denaro. Se lavorate in proprio, e avete un esercizio commerciale, questa sarà una buona giornata che riaccenderà le vostre speranze. Beh i momenti anche in casa abricolare e in cucina, dove improvvisare un dolce che si rivelerà riuscitissimo. La vostra ricetta segreta? È dolce anche il vostro cuore. Se maneggiate denaro svolgendo un'attività commerciale, e di vendita in pubblico, fate attenzione a non distrarvi e ad essere sempre presenti a voi stessi. Urano imbronciato nel segno del denaro, il toro, vi pone qualche ostacolo, specie nelle spese di carattere edonistico, rendendovi meno concentrati e efficienti. In special modo se siete nati nella prima decade. Benessere. Ambiziosi, al punto che anche se siete davvero in forma splendida, allo specchio non siete davvero soddisfatti. Si può fare di più, pensando con aria critica, ma complice il lockdown, e lo smart working, vi rendete conto di esservi trascurare un po', Le chiome hanno bisogno di un taglio nuovo, e di una rinfrescata con un colore più acceso, siete figli del sole, ed è il sole, che dovete rappresentare nel momento più oscuro dell'anno, quando si appresta a passare attraverso il tunnel solstiziale che ricondurrà lentamente il mondo verso la luce. Colore delle emozioni Biancolatte Barometro dell'umore Variabile Pagellina del giorno Sentimenti 6. Attività 8. Finanze 6. Benessere 7. Grazie per aver guardato il video, per favore perdilo, iscriviti al canale, e condividi in modo che io abbia più motivazione per produrre video di qualità più per te. Buona giornata. Grazie